Musica 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 La qualità è la qualità del pioglielo e il costo del panel con la glia avia. Possiamo avere la tecnologia Slimline con un'unità di protezione externa per più glue, un filo caldo, e un nozzolo. In questa area, il nozzolo dà la glue alla superficie flat dell'acqua. In questa area, l'acqua con la glue è applicata sul panel. Il risultato finale è un panel con una qualità di qualità più alta che il processo tradizionale può dare. Il panel con la tecnologia Slimline ha un finimento più alto come standard, ma con il stesso costo di un panel con la glue Avia. Sono un specialista di Hadesi e vorrei suggerirvi il prodotto che in ultimi periodi usavano per l'H-Banning, che è un poliuretano di Hadesi, che ha una resistenza molto alta, che ha una resistenza di temperatura in un range di 140 gradi, e una resistenza di temperatura molto alta, che ha una resistenza di 30 gradi, meno di 30 gradi. Nel momento non c'è nessuno di usare l'acqua di Hadesi, l'acqua di poliuretano o di poliuretano, perché è la giusta di esplosione per ogni tipo di fattura, per esempio, se hai bisogno di vendere il prodotto sui prodotti in ogni mondo senza problemi, sui problemi e la temperatura di humidity. Questo è il primo. A presto!